Non c'è mai un'altra partita dove si possa riprendere quello che lasciamo in una partita. Per cui tutte le partite sono fondamentali e importanti per qualsiasi competizione. Io penso che essere consapevoli della nostra forza e di dove vogliamo andare sia molto più importante che essere consapevoli della forza di Malta e di Inghilterra. Perché poi quando noi saremo consapevoli di dove vogliamo andare, di chi vogliamo essere, queste squadre saranno un ostacolo durissimo da dover assolutamente superare per andare a dare gioia a tutti quelli che ci vogliono bene. E' facilmente toccabile questa gioia e questa felicità che noi dobbiamo andare a restituire. Perché domani sera c'è lo stadio pieno. Cioè Bari ha risposto in una maniera eccezionale a quella che è stata la venuta della Nazionale a giocare in questo stadio qui e noi li vogliamo ringraziare fin da subito per tutto il calore che ci faranno sentire e per noi loro saranno un aiuto, un supporto fondamentale. Grazie.